Quello che vedete alle mie spalle è il portico della salita di San Luca, Bologna. Un percorso veramente impegnativo che io ho già fatto in passato e ci entrava sempre qualcosa la Juventus. Luca Mastrangelo se lo ricorderà. Ciao Luca, stavolta lo faccio per un motivo ancora più giusto, per una causa giustissima. L'esonero di Massimiliano. Io vado a San Luca e tu invece te ne vai da Torino. Seguiranno aggiornamenti quando arriverò in cima. Ciao. Ecco l'aggiornamento promesso. Come vedete, Chantella ha affrontato la sua passione con coraggio, con spirito di sacrificio ed è arrivato in cima. Quindi, a Massimiliano.